Bene, un saluto a tutti quanti i nostri amici di Android Blog quest'oggi stiamo facendo la recensione del Asus Memo Pad Full HD 10 un dispositivo direi molto interessante che andiamo subito a vedere purtroppo non ho la confezione ufficiale di vendita visto che ci hanno mandato semplicemente un device, un sample per la stampa quindi posso solo farvi vedere cosa sarà compreso in confezione oltre al tablet, cioè semplicemente questo cioè un caricatore classico, anche relativamente compatto magari ne ho visto anche di meglio, ma compatto e il cavo dati che poi serve sia per collegare al PC che per caricare il tablet niente di più, saranno poi sicuramente qualche manuale di istruzione ma direi che praticamente siamo lì il display, partiamo dal display, visto che è la parte più importante di questo tablet è un display da 10.1 pollici diagonale a LED 1920x1200 quindi leggermente di più rispetto al Full HD classico e per la prima volta vediamo montato su di un tablet un processore Intel Atom in questo caso lo Z2560 che però si evolve alla versione Dual Core da 1.6 GHz la memoria è da 16 GB o da 32 in base alla versione acquistata anche se in Italia credo sia disponibile solo la 16 la memoria RAM è da 2 GB abbiamo poi 5 GB invece di Asus Web Storage gratuiti all'acquisto del dispositivo Wi-Fi, Bluetooth, c'è anche la versione LTE ma costa 100€ di più quindi anche con la SIM dentro la fotocamera anteriore è da 1.2 GHz megapixel mentre nella parte posteriore il tablet ha una camera da 5 megapixel abbiamo poi qui gli speaker stereo, già che ci siamo il logo Asus molto carino e questa texture bianca direi anche essa che dà eleganza al dispositivo lato destro il jack e il bilanciere del volume lato superiore il tasso eccezione e spegnimento lato sinistro abbiamo il micro HDMI, il mini HDMI, il mini USB e l'ingresso per la SD di espansione perché sono 16 GB espandibili tramite la micro SD sotto invece liscio, pulito, nessuna porta o altro aggancio bene, quindi abbiamo visto anche questa panoramica diciamo quindi delle fotocamera abbiamo parlato da 1.2 a 5 megapixel con registrazione a 720p quella frontale e a 1080p quella invece posteriore senza però flash LED per quanto riguarda le fotografie o i video in notturna e questo può essere un po' un problema d'altronde però con un tablet non sempre si va a utilizzare la camera in determinate circostanze detto questo poi abbiamo il classico giroscopio i sensori di luce, il sensore gravitazionale eccetera abbiamo il GPS e il GLONASS su questo dispositivo i colori sono oltre al bianco di fatto vedere sono anche blu e rosa e per finire direi le dimensioni che sono di 264,6 di lunghezza per 182,4 di larghezza e 9,5 mm è lo spessore infatti non è molto spesso e il peso è di 580 grammi bene direi quindi che abbiamo abbastanza detto tutto riguardo abbiamo quasi detto tutto riguardo le specifiche hardware andrei allora a parlare direttamente del dispositivo allora prima cosa non so se avete già visto la serie memopad e phonepad riprende praticamente la stessa interfaccia di quando si scendono le notifiche che abbiamo visto anche negli altri dispositivi in precedenza quindi abbiamo sempre i vari toggle veloci il GPS suono e rotazione automatica il bluetooth, il dizionario tasto istantaneo che se avete visto la mia vecchia recensione sapete anche cos'è comunque consente di fare una traduzione rapida delle pagine che si vanno a visualizzare e il salvataggio intelligente che invece serve a fare una gestione energetica ancora più soddisfacente poi abbiamo invece qui sotto il classico bilanciere per quanto riguarda la luminosità qui un controllo diretto dei dati e della parte musicale e poi abbiamo invece le impostazioni già che siamo in impostazioni ve lo farvi vedere giusto un attimo come veniva ripartita la memoria lo spazio utente a disposizione non è proprio 16 giga ma in realtà quello che viene fornito all'utente e possiamo vedere di 11,69 gigabyte comunque devo dire che essendoci anche l'espansione tramite microSD non possiamo chiedere di più l'Android version in questo caso è 4.2.2 quindi la versione Android montana sul dispositivo e non è la 4.3 ancora ma è la 4.2 qui direi che abbiamo detto anche questo volevo far vedere poi questa particolarità cioè tramite questo tasto praticamente stiamo andando ad attivare come dire una serie di applicazioni abbiamo l'audio, il browser buddy per la messaggistica l'accolatrice, il calendario il compass quindi la bustola contro la rovescia come lettore di unità, clonometro, dizionario, email, lettore video e sticky memo direi di andare a vedere magari l'accolatrice che può farci capire meglio il discorso vedete esce una sorta di applicazione di finestra flottante chiamatela come volete che permette praticamente di gestire non so sto vedendo una pagina web devo fare un conto al volo senza che chiudo la pagina e magari riguardando quella pagina faccio il conto do il risultato poi dico vabbè ok basta così chiudo oppure posso ingrandire la calcolatrice a livello massimo direi che questa è una ottima ottima pensata da parte di Asus poi se avete già visto le mie vecchie recensioni di Asus vi sarete anche resi conto per quanto riguarda le varie applicazioni Asus direi di farne una rapida rivisitazione abbiamo l'app backup fare un backup l'app locker delle applicazioni l'app locker per bloccare al determinare applicazioni tramite la password l'Asus Artist per disegnare l'Asus Splendid per praticamente gestire ecco il display può essere carino giocarci l'Asus Studio per andare alle foto l'Asus Studio le cose da fare la Yo Wizard ancora una volta per l'audio poi vabbè il gestore file è già installato di default e beh sì poi Super Note e Sticky Memo che sono comunque cose per prendere le i nostri i nostri memori i nostri memo e poi c'è il risparmio di energie che abbiamo già detto prima che si può attivare anche da sopra e il Press Reader per la stampa le notizie e protezione ai genitori per proteggere magari i nostri bambini da qualche applicazione o qualche aspetto del tablet che non vogliamo far vedere detto questo direi allora di concentrarci più direttamente per quanto riguarda il tablet partiamo subito dalla recezione wifi che è a ottimi livelli mi è sembrata anche più potente rispetto ad altri dispositivi che io ho provato qui sempre nella mia solita stanza studio dove faccio queste recensioni mi è sembrata addirittura come ripeto più potente la batteria parliamo anche di batteria già che ci siamo è di buona di buona autonomia siamo riusciti ad arrivare con un uso medio intenso quasi alle due giornate di utilizzo un giorno e mezzo quindi direi che questo tablet regge e resiste davvero abbastanza bene direi nessun tipo di problema per quanto riguarda l'autonomia per quanto riguarda anche le le email beh direi nessun tipo di problema per quanto le email mi piace il fatto di avere da questo lato ok ho fatto un casino vabbè prendiamo la Samsung Exclusive dicevo mi piace di avere questo lato le varie email e a destra invece mi piace avere tutta la mail che poi può essere vista ecco qua mi è arrivata la bella offerta la parte di Samsung non è proprio il massimo far vedere questo all'interno di una recezione di un Asus quindi magari prendiamo ecco prendiamo questa email qui ecco qua direi che con Amazon usiamo un po' di par condice possiamo vedere qualsiasi tipo di ecco c'è la PS4 quindi un po' di tutto vari altri DVD eccetera comunque vedete le email funzionano benissimo nessun tipo di problema andiamo a vedere allora anche il browser direi quindi di andare ok no qua niente perfetto pagina Asus caricata rapidamente e direi senza alcun tipo di problema un piccolo ritardo leggermente ma nulla di che vogliamo andare magari sul nostro sito su Android Blog eccoci qua nel frattempo che parte quello facciamo aprirli anche The Verge ecco qua magari ce lo cercherà adesso ma intanto avremo due schede vediamo un po' come va ecco Android Blog è stato già caricato quindi direi no direi nessun tipo di problema guardate come il dispositivo è fluido eccoci qua quindi nessun tipo di problema perfetto e per quanto di quale invece The Verge lo andiamo ad aprire subito un attimo di caricamento è sempre un sito abbastanza pesante quindi direi che serve un attimino in più bene direi che comunque anche con The Verge nessun nessun tipo di problema ecco mi è sembrato essere di buon livello questo questo browser del tablet forse il doppio tap vabbè sì in questo caso in questo caso in effetti fare una reimpaginazione così in effetti è un po' un po' stupido quindi la fa un po' più con meno zoom comunque direi il browser nessun tipo nessun tipo di problema ok quindi allora magari già che ci stiamo il GPS è attivo facciamo un test del GPS vediamo un po' come si comporta il GPS se prende subito se invece no insomma in sostanza quindi come si aggancia ai satelliti provo a togliere un po' di riflessi chiudendo un po' la finestra ma non penso che purtroppo sullo sfondo nero è così e non riusciamo a fare molto mi dispiace questi riflessi ma è così niente direi che il GPS come ho anche testato offline non mi sembra essere particolarmente reattivo con i dati invece nessun tipo di problema bene avendo visto anche questo allora direi un attimo di andare a soffermarci e tolgo un attimo il tablet perché volevo soffermarmi su alcune foto e video che volevo fare vedere per vedere per vedere lo screen quindi per vedere lo schermo e quant'altro per un attimo devo andare ad inserire la mia password di Dropbox perché mi sembra che se la sia scordata nel frattempo nel frattempo vi anticipo che sì ho realizzato qualche foto ma questi giorni sono davvero giorni pesanti nella mia città dal punto di vista meteo e quindi come dire mi lascio la facoltà di parlare direttamente nell'articolo poi della recensione della fotocamera in modo più dettagliato perché magari sarei poco poco preciso però la recensione andava fatta e quindi ho dovuto farla e diciamo che dal punto di vista fotografico il tablet non è proprio eccezionale dal punto di vista della luminosità quando siamo in serata quindi in luminosità scarsa direi che è praticamente quasi impossibile riuscire a fare foto e video direi che il tablet fa davvero molta 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 fatica non lo so fare una fotocamera senza flash ci da praticamente ci propone qualche difficoltà poi diciamo che noi un tablet è pur vero che non lo utilizziamo quasi mai per fare foto eccetera però diciamo che il problema c'è sappiate questo tablet fa foto di discreto livello solo in condizioni di ottima luminosità per quanto riguarda invece i neri non sono dei nerissimi e per quanto riguarda i bianchi c'è un buon contrasto ma non è proprio un bianco così puro i colori mi sembrano di buona qualità forse non sono così vivi ecco sono dei colori forse un po' come dire un po' un po' saturi non mi sembrano molto molto vivi però è una gestione che ha fatto così del pannello l'Asus e può essere tranquillamente cambiata quindi direi nessun problema vengono ietti anche gli MKV e gli FLV particolare che io ho il trailer di qui di di FF6 proprio in questo momento dato che qualche giorno fa è morto Paul Walker quindi che dire una notizia che mi ha lasciato scioccato per un fan come me di Fast and Furious quindi mi dispiace tanto e niente vabbè torniamo nel nel discorso non ci dilunghiamo e andiamo a parlare di visione di Full HD perché gli MKV 720p 480p e i FLV leggi tranquillamente per quanto riguarda i Full HD mi sono accorto che se il video è piccolo la mole nel senso abbiamo un video di 2-3 minuti come questo non c'è nessun tipo di problema mettendo un video invece magari di una mezz'oretta in Full HD tipo un film o comunque un video fatto da una telecamera eccetera il dispositivo fa davvero fatica a sincronizzare audio e video e questo mi ha lasciato un pochino come dire perplesso e da un lato anche un po' dispiaciuto visto che su un tablet che comunque ha un processore quad core processore dual core intel atom scusatemi e ramo da 2 giga mi si era aspettato qualcosina qualcosina di più bene detto questo ad ora ci manca una semplice prova cioè di andare a fare una prova di qualche gioco andrei a provare allora a questo punto Asphalt 8 e nel frattempo vi dico che se avete qualche chiavetta il tablet legge tranquillamente anche le chiavette tramite il classico adattatore da menu usb a usb ok il gioco non ha scaricato i dati allora direi di interrompere qui la la nostra recensione caricherò poi a fine recensione allora insieme al gioco qualche piccolo scatto che ho fatto così facciamo finiamo anche questo punto a tra poco ciao ciao ragazzi eccomi come vi dovevo vogliamo parlare un po' di del gioco quindi questo è Asphalt 8 si è scaricato tranquillamente proviamo anche a giocare ci ho già provato direi che non abbiamo avuto particolari particolari problemi o rallentamenti e quant'altro sicuramente giocare con un tablet di queste dimensioni non è proprio il massimo magari uno schermo un po' più piccolo un tablet da 7-8 pollici forse è la situazione migliore comunque possiamo giocare anche su questo memopad FHD10 e come vedete non ho particolari problemi anzi direi che il gioco è reattivo e anche abbastanza fluido ci permette di di giocare di sterzare di seguire le indicazioni della macchina senza alcun tipo di problema praticamente ecco qua sì quindi direi che si può giocare anche a titoli importanti visto che Asphalt 8 è uno dei titoli maggiori da questo punto di vista per quanto riguarda infine l'ultima cosa la la fotocamera volevo farvi vedere dato che dato che ho fatto il giorno dopo la prova del gioco e mi sono accorto che il tempo era anche migliorato e quindi ho voluto farvi vedere anche qui direttamente per quanto riguarda la camera la camera ha i seguenti i seguenti settaggi qua c'è possibile fare lo zoom si possono fare i video fino a full hd foto a 5 megapixel si può scegliere anche la fotocamera frontale qua vabbè si va a scegliere modalità di scatto normale panorama neve tramonto eccetera qui si sceglie gli effetti bianco e nero negativo seppia eccetera 5 megapixel soluzione massima il bilanciamento qui altri esposizione iso tempo di attesa schermo messa a fuoco suonotturatore antis farfallio e quant'altro le foto che ho realizzato con questo dispositivo sono queste non le ho fatte in notturna perché praticamente le foto in notturna sono sostanzialmente del tutto inutili visto che non c'è il flash e si vede davvero poco queste sono foto fatte in piena luce devo dire che sono venute discretamente bene nulla di trascendentale nulla di eccezionale però direi che per un tablet è più che sufficiente per quanto riguarda invece i video con il quale concludo anche questa nostra recensione eccoci qua 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 quindi questo era il video con il memopad full hd 10 ok quindi abbiamo visto anche questo video direi che anche il video non è niente male nulla di eccezionale trascendentale ma diciamo che quel che serve basta allora quindi cosa dire di questo memopad full hd 10 è uscito diciamo intorno al prezzo di 299 euro anche se ora si trova anche online a 50 euro di meno la versione LTE costa 100 euro di più direi che è un ottimo prodotto ci permette di navigare su it senza problemi di avere uno schermo davvero splendido da 10 pollici ottimamente risoluto di avere tutte quelle applicazioni asus studiate apposta per i suoi tablet di avere una ottima fluidità generale e di giocare a giochi importanti forse l'unica pecca è nella fotocamera che non è così eccezionale soprattutto per la mancanza del flash quando siamo in notturna e per la visualizzazione di film e video in full hd di lunghezza abbastanza grande e soprattutto più che lunghezza di pesantezza dal punto di vista di memoria di byte perché il tablet tende a perdere il sincronismo a volte tra il video e l'avio non riesce proprio a stare dietro delle volte addirittura va a fare dei micro blocchi bene direi quindi che è tutto per questo asus macbook full hd 10 direi che è un ottimo prodotto e ringraziamo l'asus per avercelo mandato per androidblog.it mauro degli innocenti ciao